Un saluto videogiocatori bentornati e si sono arrivate le vacanze, sono arrivate le ferie e anche è arrivato il momento di andarsi a fare un giretto ma se vi farà piacere il canale non rimarrà senza video dato che mi sono adoperato per precaricare qualcosina come la video recensione esotica del signore dei lupi una recensione leggendaria richiesta da voi proprio a fame di crota un vlog molto interessante ed utile sui videogiochi buggati appena usciti una sfidona sempre in alto fra me e Nicolino 662 a Rocket League e una video recensione rara speciale sul fucile degli ignota che nonostante sia un'arma blu può racchiudere al suo interno delle sorprese nel prossimo DLC tutto questo a partire da domani e ogni due giorni mi raccomando seguiteci anche su Google Plus, Videogamesland, il bello dei videogiochi i BDV su Facebook, sempre Videogamesland, i BDV e su Forum Free, stessa cosa seguiti tutti da grande Horstay, mio prezioso collaboratore detto questo io vi saluto, ci vediamo al mio rientro e buone vacanze a tutti ciao videogiocatori grazie a tutti